Ieri si è svolta la quarta prova di campionato italiano a Magione, è stata una gara molto dura e soprattutto caratterizzata dalla polvere. C'erano due prove speciali abbastanza impegnative, di cui un enduro test era molto veloce e lungo, in cui la visibilità era ridotta proprio a causa della polvere. Sono comunque soddisfatto della gara che ho fatto, anche se comunque nel primo giro non sono andato benissimo, avevo delle difficoltà a trovare un buon feeling con la moto. Però con l'ottimo lavoro di tutto il team sono riuscito comunque a migliorare e piano piano sono risalito un po' nella classifica assoluta. E quindi ho concluso terzo nella classe 600 senior e quindicesimo assoluto. Ringrazio tutti, ci vediamo alla prossima.